Wow! Wuh-ha! Dunque, un livello corto come lo scorso? Perché questo mi sa tanto di livello tipo zona di Gantu visto che ci sono le gabbiette, tutte le macchinette qui tutte strane Certo che comunque avere una pistola sola è veramente lento te ne accorgi solamente ogni volta che inizi un nuovo livello Oh, due pistole, già molto meglio E infatti, guarda un po' Già tre pistole Ah, che bello, fin dall'inizio si inizia subito a fare danno Oh, ma guarda un po', c'è della roba là sopra Ce la posso fare? Certo che ce la posso fare però ogni volta il gioco decide come vuole lui qua, eh Il gioco mette le sue regole a ogni livello a caso A volte le cose te le prende anche magnetiche proprio se è distante ti arrivano da sole A volte ci devi proprio entrare dentro per poterle prendere Adesso sto cavolo di calamaro lo facciamo Vediamo dove ci porta Belli pesci Allora, che cos'hai per me? Ok, siamo nella gabbia di Jumba Questo vuol dire che siamo vicini al suo laboratorio E io Esatto Sti maledetti soldi No, ti prego Un'altra volta la zona di volo No, e dai Un'altra volta a livello di volo No, per favore Allora Dove mi porti? No, guarda Ho dedicato la mia vita A lasciarvi perdere Onestamente Preso Ok Dunque C'è qualcosa Vedi Questo gioco è proprio stupido Da dove sono saltati fuori Questi Questi cavolo di cose Di DNA Uh, ma guarda un po' Guarda Allora, sotto certi punti di vista Sto gioco è geniale Le cose te le nasconde Proprio da stronzo Guarda cosa succede alla luce Da stronzo In altre è proprio Madonna mia Di un fastidio Ok, calmo Vai Perfetto Vai, 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 vai Io intanto li cerco Se poi Riesco a prenderli No, 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 no Ah Maledizione Ok Grazie Di qua non si passa Ovvio Sai che novità E ora cade Ma se io andassi di qua prima Giusto curiosità Eh, non per altro Ad esempio Cosa c'è qui? Ok, qua mi sa tanto di zona Solamente Dove si Si arriva dopo questo giro Io Proseguo Dritto dritto Vediamo Dove finiamo E tra l'altro Dicevo Vediamo anche Di trovare No, no Mi ha fatto laggare Lui che parlava E quindi Mi sono bloccato a mezz'aria Dicevo Io Cerco di prenderli Un po' di Cose di DNA Poi ovvio che Oh Dove si arriva Si arriva Io più di tanto Cerco Di non sbattermi Neanche Ecco Qua Perché sto gioco è proprio Stronzo Nelle meccaniche Perché a volte Veramente Te li regala Sti punti DNA A volte ci devi proprio Andare lì Con una preghiera Per prenderle le cose Scusa un attimo C'era qualcosa qui Si Ma Abbiamo fatto il giro? Si Mi sa che abbiamo fatto il giro Vabbè Io proseguo Fino a che il gioco Mi dice di proseguire Poi Oh Magari davvero Devi tipo farti Due o tre giri E basta eh Poi ti fa andare avanti Lo stesso Magari no Magari invece Devi fermare In un qualche punto Specifico Ma tu sei lì Tutto scemo Che continui a proseguire A farti il giro A meno che La vedo difficile Ma A meno che L'obiettivo Non sia tipo Ammazzare Le zanzare Ah Ok Boh in realtà Non so se dovevo fare Due giri o meno Non è che era molto Specificata la cosa Ok Abbiamo tutte e quattro Le maledettissime Pistole Io intanto Faccio quello che Stitch farebbe Ovvero Faccio casino E mi diverto Ecco qua Grazie 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 Bravo Ok Cerchiamo di Tenerla Giusto giusto Un pelino di Energia Visto che No Ecco qua Ok Ci siamo arrivati L'importante Guarda Era quello A sto giro Ok Posso Come faccio ad entrare io Guarda questo che Continua È puntato su di me Però Si sta Glicciando malissimo A meno A meno che L'obiettivo Non sia Entrare in ogni Porta Dopo aver fatto Il giro Ah Ah E scusa Ah ma ci sono i tubi Allora Ok Aspetta Dicevo ma come faccio a passare Se non ho più energia Così faccio a passare Ok A sto giro Hai ragione tu Gioco A sto giro Dove sei È morto Come mai è morto Così velocemente Meglio per noi No C'è qualcos'altro Non mi sembra Perfetto Gna 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 Ah Maledizione Sta gente Io faccio Le cose per bene Ovvero Entro Uh Calmo Che qua siamo già alla fine del livello Dicevo Entro dove devo Prendo tutti gli oggetti che trovo Faccio fuori Tutti sti Specie di dinosauri Con le tute Spaziali Ecco qua Grazie Dove sei? Non ti vedo Non ti vedo perché la telecamera è stupida in questo gioco Grazie Del filmato Meno male che i filmati Non sono obbligatori da cercare per completare il gioco Meno male Di qua non si passa Oh Sta telecamera Ecco qua Muorici Io proseguo Proseguo Vediamo C'è qualcosa qui? Sì Ecco qua Grazie Dai Ci manca poco per arrivare a 490 Perfetto Perfetto Attenzione Troppa gente Io Continuo a girare e sparare Peggio di John Wick Stich Dio mio in questo momento E quello? Ah ok Dicevo sembrava Un piccolo alieno Ecco qua Madonna mia Se sti cosi ci davano punti DNA Avevo fatto la scorta fino alla fine del gioco Ecco Ecco fatto Grazie Beh non ce ne mancano molti per il prossimo punto di completamento eh Io direi Che ne abbiamo saltate un sacco Però Arrivato a questo punto Me ne frega più nulla Andiamo come andiamo Facciamo quello che facciamo Grazie dell'invincibilità Beh oddio Forse c'è ancora gente qui eh Mai dire mai Grazie Oh ma sta Sta cosa esplode No Ecco appunto Ecco fatto Vieni qua Dove sei? Dove sei? Dove sei? Preso Ancora uno Ecco fatto È morto? Direi di sì Perfetto Questo viene con me Addio Ho usato un attimo Lo zaguardo Per liberarmi Di un po' di creature Ecco qua Dovrebbero essere tutti morti No Ne mancava ancora qualcuno Perfetto Grazie del filmato Addio Oh ancora ne spawnano E basta Ok Dove appaiono? Ste porte si aprono più? Sembra di no Oh ma c'è sempre un uovo che riappai Scusami Adesso resto qua Riappare totalmente random Riappare un solo uovo Totalmente random Così Perché si deve Vabbè Io proseguo Da dove sei apparso Scusami Grazie Di qua non si passa Di qua non si passa Fine del livello No Ne ho saltati due Dannazione Due Mamma mia Ciao 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 C'è Ciao Ciao Grazie a tutti.